buongiorno a tutti e bentrovati su questo mio canale in cui parliamo di orchidee oggi vi volevo presentare un papiopedilum una scarpetta di venere si chiama papiopedilum in signe è uno spettacolo è appena fiorito diciamo che lui mi fiorisce tutti gli anni quindi è un buon duale e tre anni che con me è appena sbocciato diciamo che per sbocciare ci mette parecchio questo è un fiore che per dal bocciolo al fiore può passare possono passare anche dieci giorni è uno spettacolo è una pianta himalayana una pianta che cresce sulle bendicite di himalaya la troviamo in inglia in india in bangladesh in nepal una pianta molto comune coltivata anche in italia coltivata in italia nella riviera ligure addirittura viene tenuta tutto l'anno all'esterno sui giardini allora come temperatura è una pianta da fresco perché cresce nell'himalaya quindi una pianta che ha bisogno di fresco non ama eccessivamente il caldo comunque non succede niente se dovesse stare sui giorni estivi dell'estate scorsa è stata benissimo predilige di più il fresco predilige non il sole diretto quindi non è una pianta che la possiamo esporre al sole per assurdo anche che è una pianta che cresce bene all'esterno che nella riviera ligure la tengono tutto l'anno fuori la mia se la tengo dentro gradisce un pochino di più probabilmente nelle marchi abbiamo delle temperature tante volte estreme o troppo caldo troppo freddo poi con i cambiamenti climatici forse la pianta ne risente un po in appartamento che gli regolarizza il clima e quindi in casa abbiamo nel periodo invernale anche 16 gradi nel periodo estivo siamo arrivati a 30 32 gradi la pianta non ha dato segni di problemi anzi è facile coltivarla in casa ricordiamo che l'orchidea in questione papiopedilum ha delle radici particolari sottilissime queste radici sottilissime sono molto delicate per il semplice motivo che quando l'ho acquistata aveva tre radici ecco non abbiamo tanta tolleranza a livello di radici già c'è una pochissime come radici nelle nel cambio del substrato se noi sbagliamo qualcosa nella coltivazione da tre a passare a una radice o a zero è molto facile il consiglio che vi do con questo tipo di orchidea e di metterla in un substrato a toccarla il meno possibile in questo caso io anche se sono un sostenitore della fibra di cocco e anni che sta in un substrato di materiali inerte quindi diciamo che c'è la pillo vulcanico diciamo che c'è il sassetto di marmo marmo di carrara c'è l'argilla cioè tutto materiale che mi permette di tenerla per anni fissa in quel tipo di substrato poi quando sarà passata la fioritura la metterò nella fibra di cocco in cui ci sono già altre colture in corso e si crede quello meno la tocchiamo perché se la mettiamo in barca in altri substrati che tendono un po' a deteriorarsi poi una volta ogni paio d'anni dobbiamo svasarla e risvasarla se non siamo bravissimi rischiamo di buttare via le radici inutilmente è una pianta che ha bisogno di mantenere l'umidità perché non avendo un substrato cioè non c'ha dei pseudobulbi quindi è il substrato che gli deve mantenere l'umidità mentre per altre specie ha delle cannule alla base questa è una pianta che non ha modo di immagazzinare e trattenere acqua quindi siamo noi che dobbiamo mantenere questa umidità con un'irrigazione costante ecco l'importante è che non dobbiamo dare acqua così senza senso dobbiamo dare acqua giusto in modo tale che tutto quello che è qui sotto il substrato riesca a mantenergli l'umidità di cui lei ha bisogno ecco questo è solo l'unico concetto se magari diamo l'acqua ogni tre giorni che sia ogni tre giorni ogni quattro giorni che sia ogni quattro giorni la regolarità ma non la quantità il concetto con tutte le orchidee è questo cioè dobbiamo ricreare all'interno del vaso quelle condizioni di umidità di cui la pianta ha bisogno in questo caso dobbiamo anche congimare ma questa tipologia di orchidea non ha bisogno di eccessiva quantità di congime proprio perché è una pianta crescita lenta lenta ma costante quindi dobbiamo dare nutrimento in maniera regolare per tutto il periodo della fase non ha un periodo di riposo periodo in cui la pianta ha bisogno di sospendere le annaffiature no è una pianta che va regolarizzata nella sua costanza la regola delle 3 p pazienza 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 tanta 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 quindi la regola delle 3 p e delle 3 t che mi è stata insegnata nei video che ho visto è la verità con questa tipologia di orchidea da soddisfazione tantissima è una pianta semplice però è fiorita diciamo che ieri ancora non era completa come fioritura oggi ve la mostro nella sua totale nella sua totale bellezza è spettacolare come pianta abbiamo detto si chiama pabio bellino menzigne era una pianta molto comune negli anni passati in italia come fiore reciso ve la consiglio è semplice si trova nelle nei vari vivaisti che poi metterò nella descrizione è bellissima da non confondere con l'ibrido americano che è più grande questa è proprio una pianta botanica la pianta botanica che poi vi daranno il cites quando la prendete per per avere a disposizione un documento che magari attesta che non è stata presa in natura e rubata insomma portata a casa illegalmente una pianta che ha bisogno di un foglietto in cui viene scritto che è stata cresciuta allevata in in serra e quindi non è una pianta che è stata portata via dall'ambiente spero di avervi fatto cosa gradita nel vedere questa splendida fioritura vi lascio al prossimo video appena avrò altri fiori da da presentarvi da mostrarvi buona giornata e grazie di avermi seguito